che sono un po' stessisti, un po' misogini, un pochettino più esagerati, un pochettino troppo rap sulla base di quello che sta succedendo oggi, non so se ne avete mai parlato, se lei l'ha richiesto, l'ha riportato, vi siete divertiti è qui anche lui a Sanremo, quindi ci sarà occasione di parlarne con lui qua, penso che stiamo parlando del festival non l'ho capito ok, potete chiederla direttamente a lui perché anche lui qua in giro a Sanremo ogni giorno a Globo io chiedo a lei ma io nel senso, è giusto che risponda a lui per questa cosa, io sono qua a rappresentare me stessa, non a rappresentare lui e non a rappresentare la coppia voglio sapere cosa pensa lei dei suoi testi, niente? ok, grazie grazie a tutti grazie a tutti